Si aspetta un discreto numero di turisti, il comune di Gubbio, che nel mese di aprile blinda il centro storico ai veicoli per aumentarne la fruibilità pedonale anche in considerazione del periodo pasquale. In via dei Consoli, via Gattapone e via 20 Settembre sarà vietato sostare nei giorni festivi e prefestivi dal 1 aprile al 1 maggio dalle ore 10 alle 20. Vietati sosta e transito in Stradicciola Santa Croce per la settimana santa a partire dalle ore 14 di sabato 1 aprile alle 20 di lunedì 10. Disposta la chiusura alla circolazione di via Cavour e di Corso Garibaldi nel tratto compreso tra via Armanni e via della Repubblica il giovedì santo dalle ore 18 alle 6 del giorno seguente. Lo stesso dicasi per il giorno della processione venerdì 7 aprile quando tutti i varchi di accesso chiuderanno dalle ore 14 alle ore 6 del giorno successivo. Pure il sabato via Cavour, Portacastello e via Piccardi saranno chiuse così come Corso Garibaldi nel tratto tra via Cairoli e via della Repubblica. Passata Pasqua disposizioni al traffico riguarderanno anche il ponte del 25 aprile. È stabilita la chiusura dei varchi di accesso di Portacastello, via Cavour, via Piccardi alle ore 11 di sabato 22, lunedì 24 e sabato 29 aprile. Negli stessi giorni sarà chiuso Corso Garibaldi nel tratto tra via Cairoli e via della Repubblica dalle ore 11 per tutto il giorno.